Emanata dal Sindaco del Comune di Santa Marina, l'ordinanza numero 51 del 26 ottobre 2020, con la quale si stabiliscono delle misure urgenti per la prevenzione del rischio epidemiologico Covid-19, che prevede la sospensione delle attività di palestre e di impianti sportivi, preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato, è stato deciso con un effetto immediato in via precauzionale al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus Covid-19 e di tutelare la popolazione nel territorio comunale, la sospensione delle attività sportive e delle attività motorie in genere, svolte all'interno dei campi da tennis, da calcio, da bocce, all'interno di palestre e centri sportivi di proprietà pubblica e privata. Le forze pubbliche e il comando di pulizia locale continuo a Fortunato controlleranno che l'ordinanza venga eseguita ed osservata. Le violazioni comporteranno nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione della sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro.